Musica L'esperienza del carcere di Ancona del Barcaione con detenuti dediti all'agricoltura da diverso tempo, secondo un importante programma, è stata analizzata in un convegno tenuto sia la loggia dei mercanti nel capoluogo Agricoltura come strumento di recupero sociale e possibilità di reinserimento lavorativo una volta scontata la pena I risultati presentati, supportati da uno studio sociologico realizzato dall'Università d'Urbino hanno indicato un successo davvero a 360 gradi di questo progetto di innovazione sociale sostenibile Un vero e proprio modello marchigiano che potrà essere anche esportato L'iniziativa è giunta al suo quindicesimo anno di età come ha sottolineato con soddisfazione Manuela Ceresani direttrice degli istituti penitenziari commentando un breve filmato Presentato ad Ancona in una affollatissima libreria fogola il libro Il Consuler Espressivo definizione metodi ed esperienze di Giovannella Giorgetti edito dalla Franco Angeli con prefazione di Alessandra Benedetta Caporale Si tratta di una stimolante e innovativa descrizione di metodi ed esperienze della tecnica di ascolto di un determinato tipo di counseling che si avvale dei supporti espressivi più vari dal disegno alle foto dal movimento alla danza e persino all'uso di fiabe e metafore un testo comunque non solo per esperti ma anche di piacevole lettura per quanti hanno voglia di approfondire le tecniche del counseling L'AMAT, l'Associazione Marchigiana Attività Teatrali che fa capo alla Regione ha presentato la stagione teatrale appena avviata in tutta la Regione una stagione che è stato detto particolarmente importante dopo le traversie della pandemia e dei problemi dovuti a terremoti e alluvioni un netto aumento degli abbonamenti e un cartellone di grande qualità come ha illustrato il presidente AMAT Piero Celani Abbiamo collaborato molto bene con gli antilocali ma soprattutto siamo riusciti a cogliere la volontà della gente quella di tornare ad aggregare, a stare insieme e il teatro sappiamo benissimo che il luogo di aggregazione è molto importante perché ci si vede, ci si incontra, si critica, si fanno commenti cose di questo genere, è quello che vogliamo noi L'AMAT è riuscita anche a proporre dei cartelloni molto interessanti ai comuni i comuni l'hanno colto in modo entusiastico hanno messo anche delle risorse cospicue per cui tutto questo ha portato in questa stagione 2023-2024 ad avere un incremento di abbonati intorno al 25% come media regionale con punte che arrivano al 40-45% insomma posso segnalare fermo ad esempio che in due serate ha fatto 903 abbonati insomma anche da Ascoli che in due serate ha intorno ai 500 abbonati Più che l'avvio delle celebrazioni dei cento anni del liceo scientifico Savoia di Ancona è stato un viaggio nella filosofia di un'epoca nei contenuti di un messaggio che dovrebbe essere eterno ma che spesso oggi è dimenticato alle muse e salone delle feste centinaia di ex studenti studenti attuali e professori di sempre hanno confermato che l'attaccamento a quell'istituto non è saudade della gioventù ma bisogna di confermare valori profondi non è un caso che la prolusione davvero interessante sia stata affidata ad Umberto Curi uno dei più grandi filosofi italiani e non ad un tecnico a un fisico sindaco, vescovo, professori del passato e del presente hanno parlato partendo dal canto suggerito da Curi di amore del sapere di capacità di insegnare e a pensare di ampio ventaglio che quel liceo offre o almeno dovrebbe offrire anche oggi a fronte di un impoverimento complessivo della sete di cultura ma le radici, lo ha dimostrato la manifestazione sono forti e soprattutto profonde nel cuore di tanti